Mi sento molto bene, perché è la mia prima volta in World Cup. Ho avuto due anni, nel 2014-2013. Abbiamo avuto molto tempo in finale, ma sempre 4, 5, 6 anni. E' stato terribile, perché ho arrivato qui e non ho mai metto. E' stato più calmo, perché avevo già una quota, quindi per me era solo per la competizione. E ho avuto tutto il miglioro di me. Quindi sono molto felice per la metà, ma per la mia competizione, la mia qualificazione, sempre. Ho avuto 3.30 e il primo round è 29. Ho avuto solo un round. Ho avuto qualche volta, per il 27. Ma dopo la semifinali ho avuto 30 volte. E nel medale, solo un miss. E' stato sufficiente per la vincere. Quindi sono ok. Questo è stato il mio primo World Cup questo anno, perché l'Italia ha bisogno di avere un'altra quota questo anno e abbiamo vinto in Alain. E' stato la mia prima possibilità di qualificare per la finale World Cup. E' stato il mio primo pensiero. E' stato felice per questo. Quindi non ho avuto la prima World Cup. Io vorrei preparare per l'Europa in Baku. E credo che dovrei andare al World Cup in LONADO in 2015. Ma non lo so ancora. Quindi continuo a lavorare giorno per giorno per per aumentare i miei sensi con le scuole e con me. E voglio dire grazie ai miei sponsori. Perché senza loro è impossibile a scuole in questa competizione. E in alto livello. E voglio dire grazie ai Perazzi. E' stato scuole con Mx2005. E' una scuola fantastica. E con Fiocchia munizioni. E voglio dire grazie ai miei. Perché mi aiutano molto. E mi credono. E voglio capire i miei confetti con questa competizione.